Musica Ospedali nel Verbano Cusiosso, la seduta straordinaria in aula Abitare il carcere femminile, le criticità della vita carceraria delle donne al centro di un seminario organizzato a Torino Estetica e benessere animale, annunciate iniziative legislative di contrasto ai maltrattamenti Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati, seduta straordinaria in aula in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera dell'Aslo VCO In seguito alla richiesta dei gruppi di minoranza, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare e Libri Uguali Verdi L'Assemblea regionale ha tenuto una seduta straordinaria per discutere la riorganizzazione della rete ospedaliera dell'Aslo VCO Le ipotesi possibili sono la ristrutturazione degli ospedali di Verbania e Domodossola o la costruzione di un ospedale unico a Ornavasso Una scelta che la Giunta ha deciso di delegare al Consiglio La Giunta, come sapete, ha inviato una proposta al Consiglio regionale con due alternative E che la Commissione Sanità ha espresso un parere a maggioranza su una di queste due scelte Per cui la Giunta si rimette, come avevamo già peraltro nella nostra proposta, al voto dell'Aula I rappresentanti dei diversi partiti hanno espresso le loro opinioni Alcuni hanno sottolineato la necessità di trovare soluzioni che soddisfino le esigenze del territorio E garantiscano attrattività per i medici Mentre altri hanno evidenziato la complessità della scelta data la specificità montana della zona E' stato evidenziato inoltre come nella passata legislatura venne indicato Ornavasso come sede del nuovo ospedale unico Dal momento che le due strutture esistenti non rispondevano più alle esigenze del territorio La delibera è sbagliata contro il parere dei sindaci, dell'ordine dei medici, delle parti sociali E anche di uno studio commissariato anche dalla stessa Giunta Che vogliono tutti l'ospedale unico baricentrico Perché tutti ci dicono che nel VCO in questo momento la soluzione sarebbe un ospedale unico baricentrico Invece Cirio e la Lega propongono di mantenere i due ospedali Noi non ci stiamo, riteniamo che questa delibera sia sbagliata nel merito e nel metodo Il capogruppo della Lega Alberto Preioni ha ricordato che il territorio del Verbano Cusio-Ossola E' a specificità montana e ad alta vocazione turistica ed è particolarmente difficile individuare un baricentro Il territorio particolare è l'unico territorio in regione Piemonte a specificità montana Quindi interamente montano C'è una tripolarità tra Verbano, Cusio e Ossola E per 30 anni il territorio anche con guerre sofferte, fratricide, non ha trovato una sintesi su un baricentro Non c'è questa possibilità Noi diciamo che dopo il Covid questa maggioranza decide non di chiudere ospedali Ma di mantenere gli esistenti e di potenziarli Perché con 200 milioni di euro di fondi ex articolo 20 ministeriali Quindi a fondo perso si faranno assolutamente due ospedali nuovi e funzionanti Riteniamo che intervenire sull'esistente sia molto più veloce Dopo il dibattito generale che ha ribadito le posizioni espresse nel Consiglio straordinario L'Assemblea ha iniziato l'esame dei 101 emendamenti presentati dai gruppi di minoranza Il Consiglio regionale del Piemonte ha osservato un minuto di raccoglimento In memoria di Silvio Berlusconi scomparso a Milano a 86 anni Il presidente dell'Assemblea Stefano Allasia ha ricordato i ruoli svolti da Berlusconi In campo imprenditoriale e politico Dove ha ricoperto per quattro volte la carica di presidente del Consiglio dei Ministri Le criticità della vita carceraria delle donne al centro del seminario Abitare il carcere femminile, spazi, sicurezza, diritti Organizzato dall'Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti Sezione di Torino con il sostegno della consulta femminile regionale Le condizioni della vita carceraria femminile con particolare riguardo alle problematiche dell'abitare Dei bisogni materiali, psicologici e relazionali delle detenute Al centro del seminario Abitare il carcere femminile, spazi, sicurezza, diritti Organizzato da AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti, sezione di Torino L'obiettivo è stato quello di conoscere le esperienze positive E evidenziare le criticità della carcerazione in relazione agli spazi riservati alle donne e ai loro figli E' molto importante oggi occuparci degli spazi nel carcere Perché queste donne sono mamme, queste donne devono pagare per ciò che hanno sbagliato Però vanno fatte pagare nel giusto, il giusto per avere dei risultati quando avranno finito di scontare la pena Sappiamo che la popolazione carceraria femminile è ovviamente una minoranza rispetto alla popolazione generale Popolazione carceraria generale, questo naturalmente ci fa pensare che vi sia anche Non una minore attenzione ma una minore possibilità di accedere alle attività che sono necessarie per un adeguato reinserimento Una rieducazione e poi vi è il grande problema dei bambini perché le donne in carcere sono spesso madri Sono spesso lontane dalle famiglie, dalle comunità di appartenenza e quindi questo ha un effetto devastante sulla situazione familiare Quando anche invece vi siano i bambini presso le madri, che per età sia possibile riceverli e tenerli presso le madri Vi è il problema di garantire spazi, assistenze e modalità che consentono ai bambini di non risentire fortemente della posizione della mamma La Regione Piemonte ha attivato un progetto finanziato con fondi nazionali per garantire percorsi alternativi alle mamme con figli al seguito Una lista di strutture convenzionate che si rendono disponibili ad accogliere le mamme con bambini in contesti protetti ma non penitenziari Al convegno è intervenuto anche il garante regionale delle persone detenute che ha proposto un monitoraggio degli spazi dedicati alle donne negli istituti di pena piemontesi Solo ragionando sugli spazi inadeguati strutturalmente e funzionalmente del carcere italiano per trattenere le donne, le mamme, i bambini in carcere si può fare una riflessione seria sull'attualità del carcere per superare il carcere con misure alternative più efficaci e più efficienti nella sicurezza e nel trattamento Estetica e benessere animale, la difficile convivenza al centro di un incontro organizzato a Torino dal garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte Intraprendere iniziative legislative per contrastare il maltrattamento genetico degli animali ad annunciarlo il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia Una pratica oramai diffusa che deve essere assolutamente valutata attentamente a livello genetico, a livello sanitario e poi anche a livello umano perché i nostri animali devono essere considerati parte di noi stessi Durante un convegno organizzato a Torino dal garante degli animali della Regione Piemonte si è discusso di come le scelte estetiche dell'uomo possano causare dolore e sofferenza agli animali domestici Insieme ad esperti di etica sociale, patologie veterinaria, dermatologia e diritto penale l'attenzione si è focalizzata sul maltrattamento genetico di cani e gatti che non solo danneggia gli animali stessi ma coinvolge anche emotivamente, gestionalmente ed economicamente i loro proprietari Per maltrattamento genetico intendiamo le situazioni anatomiche, cliniche e comportamentali che a causa di una selezione non perfettamente corretta fanno sì che i nostri animali abbiano delle caratteristiche che devono essere curate a volte chirurgicamente, è il classico esempio degli animali che hanno il naso troppo corto, gli occhi troppo in fuori hanno le gambe troppo corte oppure a causa di selezioni mal gestite hanno allergie, forme autoimmune, dermatiti su cui poi ad esempio si innescano dei processi infettivi con la presenza di batteri, con la presenza di funghi animali che vengono in pratica curati tutta la vita e anche speriamo di avere un po' di indicazioni per le persone che intendono condividere la loro vita con un animale e che siccome si affezionano quando questi sono ammalati soffrono anche loro Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti